Salve a tutti ragazzi, registrato nei cieli del Cile qualcosa di strano Sinceramente io credo che sia un UFO Come ben potete vedere ragazzi, cambia anche colore, vedete? Eccolo qui, adesso ho fatto un fermo immagine perché Come ben sapete ragazzi, io voglio zoomare Cioè, questo oggetto, eccolo qui, vedete? Cambia lo colore ragazzi, si gira pure su se stesso Quindi sinceramente non credo che sia qualcosa di terrestre Questo video è amatoriale come ben potete vedere Perché purtroppo l'immagine si muove molto Perché chi registrava ragazzi non è che stava fermo con la manina Quindi, però, è un video molto interessante Quindi cerchiamo di andare indietro un'altra volta Così, ecco, riusciamo a fermarci sull'oggetto Vedete ragazzi, guardate adesso Quindi cerco di arrivare Eccolo qua ragazzi, vedete? Ecco qui, qui si vede un po' meglio Vedete? Cambia colore, gira su se stesso E diciamo che non credo ragazzi che sia qualcosa di normale Quindi credo che sia qualcosa di alieno Che poi sia una tecnologia che ancora non hanno detto Allora è tutta un'altra storia Però credo che al momento non ci sia Non abbiamo mai visto questa cosa così Quindi potrebbe essere alieno Ma potrebbe anche essere qualche tecnologia nuova Che non abbiamo mai visto Però sinceramente non credo Perché vedete che cosa riesce a fare Scomparre, riappare, gira su se stesso Quindi non credo che l'uomo abbia fatto una cosa così Purtroppo mi dispiace che il video è molto mosso Ma purtroppo quando si registrano delle cose ragazzi E i video sono amatoriali Questo è l'effetto che si ha Come sempre ragazzi vi invito a lasciare un vostro giudizio Su cosa potrebbe essere questo oggetto Secondo me, ripeto, penso che sia qualcosa di alieno Eccolo qui ragazzi, qui si vede molto meglio Come sempre ragazzi al prossimo video Ma soprattutto al prossimo mistero